...2010, sempre con Zlatan Ibrahimovic, voglio resuscitare a te... E 2 a 1 per il Milan! E che cosa fa? E che cosa fa? Chi resuscita? Chi resuscita cosa fa? Cosa fa? Si fa una canzoncina! Andate su Twitter, fate il tuo morso nero, perché stasera lo cantiamo tutti insieme, tutta mia la vita! Un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà! 2 a 1 per noi, grande Mister Piori!